Dopo la legge edilizia sbagliata, il centro-sinistra sta topando con la legge urbanistica che a breve approderà in aula. Così Marco Tedde, consigliere regionale di Forza Italia, commenta il progetto di legge urbanistica della giunta Pigliaru che verrà discusso in consiglio regionale. Abbiamo sollecitato per quattro anni giunta in maggioranza di centro-sinistra affinché varasse una proposta di legge urbanistica per il governo del territorio. Pigliaru, nel suo programma ricorda l'ex sindaco di Alghero, si era impegnato a modificare perfino il piano paesaggistico di Soru che ha messo in ginocchio l'edilizia a approvare una legge urbanistica allineata alle esigenze dell'isola. Invece è arrivata una proposta di legge che ha una matrice oscurantista e che rischia di fare pesanti danni. L'esponente forzista critica soprattutto l'articolo 29 che prevede un incremento di cubatura per le strutture recettive entro i 300 metri dal mare con un tetto massimo di 1500 metri cubi, ovvero 500 metri quadrati, ma per soli servizi, castrando così la sostenibilità economica dell'investimento. Per migliorare la qualità dell'offerta turistica occorrono nuove camere con standard internazionali. L'offerta alberghiera sulle nostre coste risale agli anni 60. Chiediamo a Pigliaru, conclude Ted, di prendere coscienza del fatto che il disegno di legge è inadeguato. Noi lavoreremo in aula per cercare di eliminare le forti lacune nel testo.